Com'è? Come stai? La domanda me si schianta sulla faccia e ogni volta non so che risponde. Me metto a fa' er minimo, piego er capo leggermente da una parte, socchiudo un pochetto le palpebre e mettendo pure un flebile. Oppure vado col classico, non c'è male. O butto là l'altra frasetta, potrebbe andare meglio. E dai, magari mi allargo e dico, un velo de scazzo sta a ricoprire lo spirito mio. E da solo mi domando, che sarà? Da che dependerà? Io so, lo so bene, e tanto per buttare là una giustificazione, aggiungo e dico, è un momento, una fase. E beh, però, però pare brutto, proprio ingiusto, in un mondo de' vera sofferenza, esse qua lamentasse, in fondo, in fondo, e o niente. E' così che dopo tutto sto travaglio, eh già, qualcosa debo ben dì, E così vai da un'altra frasetta di quelle d'ordinanza. Via, non c'è se può lamentà. E te, con me, con me.